Allora, altra canzone popolare, altra canzone popolare, non me ne vogliano, come si dico sempre, le canzoni cantate in dialetto da uno come me, non me ne vogliano tutti gli abitanti della Campania o comunque la popolazione napoletana o la popolazione campana, non me ne vogliate, io non sono un, non ho l'accento proprio, io leggo, la mia pronuncia è quella che leggo nel foglio che ho qui di fianco a me, la canzone si intitola Come facette mamma te e io come la leggo ve la propongo, è una canzone allega, lo sapete benissimo, è una tarantella, è in dialetto, ma il dialetto che leggo io qui è come se fosse per me leggere il giornale, leggere la stampa qua di Torino, no? Ecco, quindi non me ne vogliate, però secondo me è una canzone rappresentativa che mi fa piacere, che mi fa piacere rammentare, che mi fa piacere pubblicare sul canale per fare la serie delle canzoni popolari, due le abbiamo già pubblicate, questa sarebbe la terza, posso già una quarta, ne ho già una quarta anche pronta, vediamo un attimino, questa qui è una canzone bellissima, una bella tarantella e ve la voglio presentare insomma, come facette mamma te. Vi dico subito gli accordi, allora, sì, gli accordi sono, prima la strofa parte in do minore, do minore, sol, do minore, sol, poi quando non c'è bisogno della zingara per indovinare quello che ci va per fare come l'ha fatta la mamma, questa bella ragazza, questa bella guagliona, la strofa, scusate, il ritornello volge in maggiore, quindi do maggiore e sol, quindi non abbiamo una cosa complicatissima, un do minore, un sol, un do maggiore e un sol, poi alla fine io ci metterò un fa per finire la canzone, no? Quando fa l'ultima, quando va poi su, ci metterò un do, un fa e un do, ecco, e questo è il finale della canzone. Vi dico il ritmo, il ritmo è semplicissimo, il ritmo è un ritmo di tarantella, tarantella napoletana, è un due quarti, quindi un fa un fa, un fa un fa, uno due, uno due, uno due, uno due, uno due, e la canzone è tutta qua. Dodici secondi e arriviamo. Proviamo, non me ne vogliate, non me ne vogliate, ripeto di nuovo, non mi voglio ripetere, anzi non mi ripeto più. Partiamo subito in do, ogni tanto farò questo lavoro qua, questo pa 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 pa, pa pa, giù su giù su, veloce ovviamente, pa 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 pa, pa 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 pa, voglio solo farvi vedere che l'appennata dell'accordo che va giù, il ritmo è giù su, 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 vi metterò poi le freccettine, ritmo di tarantella, giù su, giù su, giù su, quando vado giù le prendo tutte cinque o sei, quando torno sempre la solita storia, non le prendo tutte, non faccio così, ma solo le prime due del manico, la prima, la seconda, massimo la terza, la pennata all'insù, ok? quindi partiamo do minore vento rose incappucciate ed intamardure ammescate, latte rose rose latte per facette cocco fatta, non c'è bisogno a zingare la pentolina che c'è, provetta fatta mamma te lo sa c'è meglio, e torna di nuovo in do minore e peppa sta bocca bella, e peppa sta bocca bella non servete la stessa dose, non servete la stessa dose vuoi sapere che c'è mettete, vuoi sapere che c'è mettete ma ti dico tutto cosa, ma ti dico tutto cosa e peppa to no e c'è bisogno a zingare la pentolina che c'è, come ti ha fatto mamma te lo sa c'è meglio, e te ultima trova un po' di grana c'è volette, pesti, prezze e cavasano c'è sta prezze non c'è bisogna zingara per dov'ina cance come ti ha fatto mamma te lo saggio meglio te come facciate mamma? te ragazzi ce l'ho fatta non ho fatto nemmeno un errore grande, 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 grande ce l'ho fatta prendetemi in giro, prendetemi in giro quanto volete scrivetemi nei commenti che faccio veramente ridere però io mi diverto, ragazzi mi diverto e spero di far divertire anche voi dai questa qui è la terza o la quarta canzone popolare continuiamo, continuiamo, facciamo il giro d'Italia, abbiamo cominciato con Piemontesina Bella abbiamo fatto Calabresella mia e adesso è arrivata come faccette mamma te poi ci sposteremo in Puglia o vediamolo da qualche altra parte, ho trovato una canzone abruzzese anche quella abruzzese è molto 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 carina ma non vi voglio anticipare nulla saranno delle sorprese con calma arriva tutto con calma arriva tutto piano piano se avete delle idee se avete delle idee io sono qua scrivetemelo nei commenti visto che mi scrivete delle cose carine datemi anche delle idee eventualmente io posso andare a cercare posso andare a cercare qualche cosa per esempio avrò dei problemi con la Liguria ma la Liguria ce n'è una che rappresenta la Liguria ma se che penso però ma se che penso una canzone non è tanto facile cioè il ritornello ma tutta ma tutta la strofa cioè non c'è solo ma se che penso c'è anche tutta la strofa e la strofa non è semplice da cantare o da fare o da trovare sinceramente io non la conosco dovrò poi andare a approfondire la mia ricerca comunque ragazzi iscrivetevi al canale come al solito divertitevi a suonare questa tre accordi do minore sol do maggiore sol alla fine c'è un fa e poi c'è questo sol fa diesis sol sol diesis sol fatevi in fretta ve lo scriverò sopra sol fa diesis sol sol diesis sol poi sol sol do sol do sol do se lo scriverò sopra mi metterò le notine e poi sol ciao ragazzi alla prossima divertitevi ciao mi permetto ancora di consigliarti questo video qui e questo video qui uno per un buon proseguo per una buona continuazione è inerente al video che hai appena guardato l'altro e l'ultimo video che ho appena pubblicato sul mio canale buon proseguimento quindi e buona ascolto e buona veduta ciao